Questo percorso significa un po' un cambiamento di rota, da dove passavano nei tubi dei gas diciamo, oggi passa dell'aria pulita, con solo un collegamento così ideale. Il senso, quello delle riappropriazioni, in particolare lì dove è un posteggio delle macchine, è molto probabile che diventi invece un aiolo o qualcosa di diverso, come è successo a Volterra nel 73, quando ho riempito la piazza dei priori, l'incompiabile, da allora è stato chiuso, transennato, non avevo più un parcheggio di macchine che deturpava in modo indegno quella bellissima piazza. Vuole essere così un segnale, un messaggio e poi speriamo che sia ricepito in modo tale che poi diventi appunto la realtà e uno spazio fruibile in modo diverso. La sigla Atua che io usavo allora, se non si legge alla francese, è Atua, per te, insomma, per cui è già implicito appunto il dono.